Allora, partiamo con l'intervista e il tuo nome? Antonella Celano Franca Cosentini Daniela Cavallaro Di che cosa ti occupi? Io mi occupo di Associazione Nazionale Persone con Malattie Rheumatologiche Errare, sono la Presidenta E sono un'insegnante di sostegno nella scuola primaria Ho una società di servizi e sono i legali Ho una società di servizi in ambito sociale Sei un paziente o un caregiver? Sono paziente, però come associazione siamo anche caregiver e quindi io agisco per me e agisco anche per gli altri Sono un caregiver, ma sono portatrice sana della distrofia muscolare di Duchenne Un caregiver Come hai conosciuto il corso di formazione Opati? Come Presidente ACUMAR e come persona ho partecipato alla genesi del progetto, quindi l'ho seguito dall'inizio L'ho conosciuto grazie all'associazione di cui faccio parte che è la Parent Project L'ho conosciuto attraverso l'associazione AMAF di cui faccio parte e sono nel direttivo e attraverso loro appunto sono entrata in contatto con questa possibilità che ho colto molto molto volentieri Perché ti sei candidata a questo corso? Perché volevo ripassare ma anche acquisire nuove competenze e poi trovo importante interagire con i docenti, con i colleghi Perché volevo conoscere di più i trial clinici Mi sono candidata al corso perché dopo tantissimi anni di cura verso mio marito che è il paziente appunto Ho avuto modo di capire l'importanza di alcune parole chiave Conoscenza, consapevolezza e proprio capire e comprendere meglio tutti i meccanismi Dalla patologia, poi tutta la dinamica tra il paziente, il medico e il caregiver Quindi una dinamica bella farcita di variabili che in qualche modo poi vanno gestite Mi sembrava una buona opportunità Le tre cose che ti aspetti da questa esperienza? Allora, soddisfare le mie curiosità e poi individuare nuove forme di impegno per la nostra associazione, per APMAR E non ultimo ampliare la mia rete di conoscenze, di relazioni e di competenze Una formazione adeguata Soprattutto di poter avere un ruolo attivo durante la stesura di un protocollo Fino alla fine delle altre fasi di sperimentazione di un farmaco Le cose che mi aspetto da questa esperienza sono sicuramente la conoscenza La conoscenza di tutti i processi, non solo sui meccanismi alla base appunto del processo appunto della patologia Ma proprio mi aspetto di conoscere tutto il percorso Da come nasce un farmaco, dallo sviluppo, da come poi viene utilizzato, dalla commercializzazione Tutto il percorso Come ti vedi alla fine del corso? Alla fine del corso mi vedo sicuramente come una persona che riesce a mettere in campo maggiori competenze Rispetto probabilmente a quelle attuali Più formata Nel senso di avere più consapevolezza Nella conoscenza dello sviluppo appunto di un farmaco Mi vedo un pochino più formata Su alcuni aspetti Penso che alla fine di questo corso Come mi succede poi nella vita Sentirò il bisogno di approfondire ulteriormente Di non lasciare tutto lì Come un corso fatto e finito Ma penso che mi vedrò proprio con la voglia di affrontare nuovi percorsi di formazione Il tuo sogno più grande? Vorrei che non ci fosse più bisogno di doversi impegnare per salute ed equità Vorrei che tutto fosse facile per le persone che vivono con patologie croniche Che non le abbandonano mai nella vita Il mio sogno è che tutte le malattie rare potessero avere una cura E un farmaco, giusto? Il mio sogno più grande è ridurre le distanze tra E questo mi emoziono Ridurre le distanze tra medico e paziente Ridurre proprio le distanze Quindi avvicinare e capire che la vita è proprio come la musica Come dice Ezio Bosso, si suona insieme Un messaggio per i tuoi colleghi che hai conosciuto solamente in modo virtuale? Never give up Con lealtà Sorridendo e studiando Magari tutti insieme Un in bocca al lupo per lo studio E soprattutto di poterci vedere presto in presenza Di essere preparatissimi Di essere desiderosi di condividere le informazioni Perché la condivisione e moltiplicazione di idee Ed è opportunità e possibilità L'ultima domanda Finora com'è andato con lo studio dei moduli? È andata bene, interessanti Si va avanti con tanta pazienza È andata abbastanza bene Anche se è stato molto impegnativo E soprattutto per quanto riguarda alcuni termini scientifici In realtà molto bene Perché sono molto affascinata dalla materia Quindi non mi è risultato difficile Nonostante poco tempo a disposizione Perché ho una vita abbastanza piena E farcita di situazioni particolari da gestire Però è stato molto gradevole Mi è piaciuto moltissimo L'ho trovato molto nutriente L'intervista è finita In bocca al lupo per lo studio Grazie Grazie a voi Buona giornata a tutti